Bene, una volta impostato il render, una volta renderizzato, vediamo come poter realizzare il compositing dell'esercizio del fuoco. Il compositing è secondo me un processo molto importante nella fase produttiva di un qualsiasi filmato o comunque di qualsiasi lavoro. In questo caso specifico invece di utilizzare Composite voglio utilizzare Fusion poiché è comunque un software a nodi in quest'ultimo periodo lo sto testando poiché è comunque diventato della Blackmagic e c'è anche la possibilità di acquistarlo a un prezzo abbastanza ridotto. Quindi momentaneamente stiamo utilizzando, valutando questa versione e di conseguenza ho deciso comunque di mostrarvelo qui sopra. Logicamente anche After Effects potrebbe essere l'ideale ma non avendo una struttura a nodi la quale io amo molto e che comunque considero molto elastica mi ritrova molto più difficile riuscire a comunicarvi tale svolgimento. Logicamente con gli effetti che andrò a inserire si possono ricreare in qualsiasi software di compositing o post-produzione video. Vediamo a noi, allora noi abbiamo il nostro render a colori della nostra torcia in fase di movimento e poi abbiamo anche quella realizzata nel nostro risultato finale nel quale però abbiamo alzato notevolmente il numero di particles in fase di emissione. Quindi possiamo momentaneamente andare a vedere soltanto, anzi teniamo le due viste senza grandissimi problemi. Le due viste e vediamo che abbiamo quello finale e quello nostro originale. Qui abbiamo nel nostro flow abbiamo il render della torcia senza le fiamme e poi invece abbiamo in quest'altro caso il render invece delle nostre fiamme, ma quindi delle nostre particles, le quali hanno infatti anche una self illumination e un numero comunque di elementi. Adesso abbiamo applicato uno sharpen il quale consente di poter avere maggiore effetto appunto sui bordi per poi andarlo a unire con però un effetto sul canale della self illumination. Abbiamo estratto il canale della self illumination a parte, l'abbiamo trattato con del glow, il quale poi dopo con un effetto di blur per ottenere tale risultato e andandolo ad unire insieme allo sharpen precedente, quindi all'effetto precedente con un merge, vediamo infatti che otteniamo tale effetto, tale effetto che comunque ora in questo caso, toglierlo, perfetto. In questo caso qui forse l'effetto di blur è poco accentuato ma c'è un motivo molto particolare poiché non è accentuato molto di più rispetto che ad altri. Di conseguenza possiamo aggiungere anche un color correction per avere un effetto, un controllo maggiore su alcune parti come per esempio le parti in highlights o anche le ombre stesse, avendo così un colore di fuoco totalmente differente. Logicamente questa tipologia di lavorazione permette anche di andare a fare delle modifiche in corsa, io per esempio sempre dal nostro color correction potrei variare il colore del mio fuoco, ok in questo caso non è proprio questo, facciamo sì che andiamo a inserire un color correction a parte e andiamo a variare totalmente il colore così a caso. Vediamo infatti che variando nel colore io potrei avere subito comunque un controllo su di esso in maniera molto elastica, senza dover appunto renderizzare nuovamente tale effetto, oltre anche al fatto che renderizzando separatamente sia il mio fuoco sia il mio bastone, quindi la mia torcia, avrò appunto la possibilità di gestirlo diversamente, io potrei tenere comunque il colore del mio elemento come è nel render e per poi dopo comunque variare soltanto il fuoco. Infatti in questo caso possiamo anche non considerarlo. E poi dopo una volta che abbiamo lavorato sul nostro fuoco lo possiamo andare a unire, questo era il nostro color correction, questo mi sa che è un po' di variazione, andare a unire alla nostra torcia, la nostra torcia che l'abbiamo, anche adesso abbiamo applicato un po' di color correction e abbiamo applicato un glow per poter avere l'effetto, infatti qui nella fase di illuminazione, avere anche su di essa un po' di glow. Perché ho applicato del glow e non soltanto al mio fuoco? Poiché quando io vado a mergiare senza glow, vediamo che mi si va a perdere un po' nei movimenti, di fatti se io mi sposto in un frame un pochino più avanti vedo che qui abbiamo un piccolo difetto in queste particles, nel senso che non si, le particles passano attraverso la nostra torcia, ma in questo determinato caso non abbiamo l'illuminazione sul nostro elemento, di fatti se noi andiamo a vedere portando il nostro elemento qui, qui vediamo qui c'è il nostro glow e invece abilitandolo vediamo che abbiamo un effetto di glow anche in questo caso. Di conseguenza se poi andiamo a vedere in maniera più estesa, il risultato finale sarà molto convincente, pur essendo stata renderizzata con un sistema basilare e senza l'utilizzo di plugins come per esempio FumeFX o Phoenix FD. Vediamo che l'effetto di fuoco è assolutamente molto convincente, logicamente con degli effetti del genere si possono ottenere dei risultati buoni per alcune tipologie di visualizzazioni, come per esempio per la visualizzazione di videogiochi, oppure anche stessi di elementi basilari come di contorno, oppure di lontananza possono avere comunque un effetto significativo, comunque possono essere di grande aiuto anche per altri elementi di contorno. Vediamo infatti come esso sia ben realizzato, pur essendo stato realizzato con un motore basilare come appunto Scanline Render e con dei sistemi totalmente classici che si possono trovare all'interno di 3DX Max, senza appunto l'utilizzo di plugins esterni. Grazie a tutti!